Controlli più stringenti contro le infiltrazioni mafiose e la corruzione negli appalti per i beni confiscati a Torre Annunziata al centro di un protocollo di legalità firmato oggi in prefettura a Napoli. Carlo Solimene. Affare da apripista a maggio insieme ad altri sei beni confiscati era stata la villa del Bostamarisco, luogo di crimine e abusi su minori affidato ad Agro Rinasce. Ora, con la firma del protocollo per la legalità, anche le altre 24 proprietà alienate alla malavita a Torre Annunziata saranno gestite dall'Agenzia regionale, finora attiva solo nel Casertano. È un segno importante per questi territori, cioè significa che l'utilizzo, il corretto ed efficace, efficiente utilizzo di questi beni confiscati diventano segnale e testimonianza di legalità. A determinare lo scioglimento del Comune nel 2022 fu anche il mancato riutilizzo dei beni confiscati, una malagestio ricordata dal procuratore capo di Torre Annunziata, Nunzio Fraiasso, presente alla firma del protocollo. Ora, per evitare che quanto sottratto ai boss torni obliquamente ad alimentare le casse del crimine, si adotteranno paletti e controlli rigidissimi sia nella fase dell'assegnazione dei lavori che in quella successiva della gestione del bene. Era una settimana particolare perché noi abbiamo celebrato Giancarlo Siani. Penso che si dovesse terminare la settimana con un'azione importante e penso che lo strumento, il patto per la legalità, sia proprio quell'azione necessaria per ricordare in maniera concreta Giancarlo Siani.